Ciao, sono Greta Di Luzio, calciatrice del Como Women di serie A femminile. Vengo a Fisio Salute perché mi sono operata recentemente al crociato del ginocchio sinistro e qui mi permettono di lavorare in acqua e quindi eseguire una riabilitazione che mi permetterà poi di tornare in campo il prima possibile con esercizi e gesti specifici che posso fare solo in acqua al momento. Per un atleta professionista, ma penso anche in generale per qualsiasi tipo di atleta, lo sport è una passione, oltre che in mio caso un lavoro, quindi la mia voglia di tornare in campo è fortissima e spero di poterlo fare il prima possibile. Grazie a tutti, ciao! Grazie a tutti!